buongiorno benvenuti al mio canale forse saprete che su whatsapp è stata aggiunta la possibilità di inviare messaggi a noi stessi questa è una possibilità che ci permette per esempio di prendere appunti senza dover utilizzare delle applicazioni come kip di google o come one note della microsoft o come altre applicazioni sono tantissime prendere appunti si sposa prende quindi anche su whatsapp senza dover utilizzare una chat che abbiamo in comune con un amico o con conoscente naturalmente anche prima c'era questa possibilità però dovevamo usare degli escamotaggi come creare dei gruppi con magari con un'altra persona per poi togliere questa persona e rimanere i soli componenti di questo gruppo lo si può fare sia da whatsapp per il mobile sia da whatsapp per desktop questo è whatsapp per desktop si può andare qua qui vedete per creare una nuova chat la nuova chat si può creare una chat con noi stessi adesso non la creo ma vi faccio vedere come si può crearla anche direttamente dal mobile passiamo quindi al mobile si apre quindi whatsapp si va in basso su questa icona per creare una nuova chat e come vedete c'è l'opzione se stessi tu quindi si tocca qua e si crea una nuova chat in questo modo ci si può inviare si può naturalmente scrivere dei messaggi promemoria per un video su whatsapp oltre a mandarsi un messaggio si può anche inviarci delle delle foto dei video inviare a noi stessi per esempio foto o video che abbiamo trovato sul web possiamo andare qua sul sull'allegato si va per esempio su galleria si seleziona un'immagine questa si può scrivere un qualcosa e inviare questa immagine poi potrà essere visualizzata direttamente dal browser web possiamo anche salvare un link e quindi visualizzare questo link anche dal browser web adesso vediamo come pare ma è una cosa semplicissima siamo tornati sul browser web come vedete c'è già la chat se stessi tu se io la apro vedo il promemoria che ho inserito e vedo anche l'immagine che ho aggiunto da mobile naturalmente io posso inserire qualsiasi altra cosa qui che sarà vista anche da mobile quindi è un sistema molto pratico per trasferire qualsiasi elemento sia esso un testo un'immagine un video un documento da mobile a desktop e viceversa può capitare che specialmente per i video la risoluzione venga modificata nel senso che se abbiamo un video in 4k magari sul desktop poi lo condividiamo con la nostra chat con se stessi e da mobile non sarà più di 4k adesso proviamo condividiamo un video 4k da desktop andiamo qua sull'icona dell'allegato scegliamo 4 video scegliamo un video questo che è 4k andiamo su apri che questo video sia 4k chiaramente lo si può desumere dal fatto che cliccandoci sopra con il destro del mouse si va su proprietà dettagli come vedete 3840 x 2160 cioè 4k e adesso vediamo se da mobile questo video che è 4k sarà effettivamente ancora in 4k vediamo innanzitutto se il video è stato ricevuto da mobile apriamo la nostra chat con noi stessi il video è stato ricevuto come vedete video 4k lo posso far andare anche sarà ancora di 4k per visualizzarlo per visualizzare le informazioni dobbiamo andare su un file manager andiamo su un file manager questo è one plus 8 andiamo su file manager di one plus 8 andiamo sulla memoria del dispositivo digitiamo whatsapp per cercare appunto i video di whatsapp ecco fatto whatsapp immagini audio documenti video quindi tocco sul video senza elementi inviati ed ecco fatti l'ultimo video che è questo che è stato inviato e adesso vediamo le sue proprietà lo selezioniamo andiamo su altro e per vedere le proprietà bisogna aprirlo con per esempio VLC VLC che è un produttore di video che funziona anche su Android lo apro con appunto VLC questo video è stato aperto vogliamo vedere i dettagli semplicemente si va qua sul menu in basso si va su informazioni video eccolo qua ecco vedete che la risoluzione è 3840 vi facciamo tutto tocchiamo ecco qua informazioni video la risoluzione è 3840 x 2160 cioè quindi è un video in 4k possiamo anche rifarlo 3840 x 2160 la dire è un video in 4k quindi è rimasta la risoluzione originale quindi ci si può inviare video da noi stessi da desktop a mobile mantenendo anche una risoluzione molto elevata come quella in 4k e questo è tutto per questa nuova funzionalità di Whatsapp con la chat con se stessi alla prossima volta quindi ci si può inviare video da noi stessi alla prossima volta che succede alla prossima volta